buongiorno guarda 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 che si vede avete visto il titolo cosa centrano gli orologi con il potere niente qualcosa secondo me qualcosa contano sapete che abbiamo una macchina del tempo quindi facciamo un piccolo viaggio molto indietro nel tempo molto meno in distanza roma è l'anno 2000 anzi scusate 263 avanti cristo magno valerio massimo torna come eroe di guerra dalla battaglia appunto vinta con la conseguenza con la conseguente presa della città di catania e in piedi dall'altra tribuna del foro romano presenta come simbolo della sua vittoria un particolare strumento questo particolare strumento era appunto una una meridiana una meridiana che viene fatta fissando viene posta viene messa in in sede per così dire fissando una colonna al centro del foro romano che purtroppo non non si può più vedere per quanto appunto messa in sede all'interno di un grosso blocco di marmo sopra un grosso blocco di marmo in cui era stata cesellata con cura una cavità a forma di semisfera sopra la cavità appunto c'era il puntatore di imbronzo quello che viene chiamato gnomone e sul marmo erano state scavate le linee sul cui cadeva all'ombra appunto di questo gnomone e che funziona appunto da misuratore locale del tempo chiaramente diceva l'ora della sicilia ma poco era importante questo livello di precisione non ci si sbatteva cosca non è cosca pochi secondi al giorno eccetera non era molto impressionante come oggetto seguito di una vittoria e la felicità della gente di roma era legata al fatto che erano pazzi di gioia per la vittoria non tanto per l'oggetto non sapevano quanto questo oggetto avrebbe cambiato la loro e non solo la loro vita perché come spesso succede in questi casi non è tanto il primo episodio è quello che segue infatti a questa meridiana se ne aggiunsero parecchie altre e furono appunto realizzate diverse decine di meridiane su tutta la roma su tutta roma posta appunto in tutta roma ogni volta servivano appunto per regolare controllare le attività quotidiane dei cittadini romani che si presto si inquietarono per l'intrusione di questa nuova di questo nuovo metodo per la misurazione del tempo perché mentre prima il tempo di riferimento era il tempo delle giornate per cui il punto di riferimento era il sole e adesso le ore venivano scandite in maniera precisa e potevano essere definite apertura di esercizi pubblici tempi dedicati ai lavori e di conseguenza una impostazione molto più rigida di quella che era la regolazione della vita appunto dei romani un noto da un maturgo diceva tra le altre cose una volta l'unica meridiana era il mio stomaco mi diceva quando aveva l'ora di mangiare sempre tranne quando non c'era nulla da mangiare ma adesso quello che non che che c'è non viene mangiato finché non te lo dice il sole in realtà la città è così zeppa di meridiane che la maggior parte della gente si trascina consumata dalla fame perché non può mangiare appunto quando ha fame oramai per quanto detestabile essere entrato in quest'ordine di idee nel 164 avanti questo venne sì rimpiazzata la meridiana di valerio ma per essere sostituita da una ancora più precisa cinque anni più tardi si aggiunse un nuovo cronometro pubblico al foro cioè un orologio idraulico che segnava le ore pure di notte anziché di giorno quindi si governavano anche le ore di sonno dei romani oltre a quelle di veglia possiamo dire da questo punto di vista che la meridiana al foro romano fu la prima torre dell'orologio da città proprio perché successivamente questo avvenne in tutte le città dapprima con la torre dei venti nella città di atene stiamo parlando di mille chilometri da roma che fu costruita nel 140 avanti cristo successivamente si ebbero questa che se vedete a mie spalle se non sbaglio nel 56 avanti cristo la grande metropolitana di augusto quindi la cosa sera assolutamente affermata e stabilizzata dunque un viaggio in questo caso soltanto fisico non nel tempo che mi riprometto di fare e vi invito organizziamo vediamoci li pago io l'aperitivo come sempre a un numero circoscritto di persone naturalmente e viaggio appunto nella città di chioggia chioggia vicino a venezia come sapete nella fattispecie per andare a vedere l'orologio che si che era che si trova nella torre campanaria della chiesa di sant'andrea questo orologio fu messo in funzione all'inizio del 1386 cioè stiamo parlando di un periodo in cui da non tante decine di anni esistevano gli orologi meccanici che consistevano appunto in ingranaggi di ruote dentate mosse dalla cadenza dalla caduta di pesi classico orologio meccanico e non risulta che siano appunto sopravvissuti orologi più antichi di quelli di chioggia ne esiste un altro che dicono anch'esso possa essere datato allo stesso anno cioè al 1386 nella cattedrale di salisbury nel regno unito ma comunque siamo qui è il solito discorso sono arrivato prima io di te di un minuto di due minuti di cinque minuti non è importante anche oggi c'è l'orologio meccanico funzionante più vecchio del mondo tra le altre cose proprio a chioggia aveva avevano avuto residenza e avevano in qualche modo formato scuola Jacopo Dondi che è quello che costruì lo straordinario orologio astronomico a Padova montato nel 1344 ma di cui non c'è più traccia e suo figlio Giovanni che era appunto nato a in quel di chioggia famoso per aver fatto nel 1364 il planetario orologeria insomma qualcosa di veramente considerevole che oggi all'inizio degli anni 80 del 300 era una grande e prospera città ma era stata completamente devastata innanzitutto dalla pandemia di morte nera che aveva raggiunto la città nel 1348 nella primavera del 1348 e aveva distrutto circa metà della popolazione e di conseguenza tutte le reti commerciali e l'economia della città poi nel 1379 un estenuante conflitto con la con le repubbliche marinali e rivali di Genova e Venezia sto ciò nella sanguinosa guerra a chioggia che si è conclusa nel 1380 dopo la morte di circa 3600 chioggiotti abitanti di chioggia e la rovina definitiva della città lagunare la messa in sede di questo orologio fu un momento fu un importante momento fu messo inizialmente nel municipio nel 1386 un momento importante per ricominciare diciamo a vivere ricominciare ad affermare l'importanza della città tant'è che pure in un periodo se vogliamo anche di carestia e comunque con delle risorse economiche molto basse si fecero enormi tagli alla spesa pubblica pur di realizzare questo orologio il 26 febbraio del 1386 consiglio di chioggia si riunì appunto nella sala principale del municipio per registrare il completamento del lavoro sull'orologio e approvare il pagamento finale all'orologiaio Pietro Broca e concordare di dargli un salario di 5 sterline al mese per continuarne la manutenzione per cui pensate quanto simbolico e quanto importante diventa questo segnale fondamentalmente per cui ancora una volta l'affermazione di una organizzazione di un potere e di una coesione di una città in questo caso in una situazione molto molto precaria e molto colpita dopo la peste e dopo la guerra in cui furono sconfitti per ricominciare a dare un segnale intrasenso cioè casi di questo tipo ne abbiamo sono cose che sono successe spessissimo nel corso della storia ci furono grandi contestazioni quando al Mayo College in India fu realizzato un importante orologio che doveva essere il simbolo della proprietà da parte dell'Inghilterra della conquista appunto dell'India sempre nella storia gli orologi non soltanto hanno organizzato la vita delle persone ma sono state spessissimo il sinonimo dell'affermazione di potere sono state spessissimo un simbolo di affermazione di indicazione di qual è la direzione verso cui guardare verso cui sincronizzarsi per capire e per adeguarsi a quelle che sono le necessità di chi comanda al Palazzo Pubblico di Siena, il municipio per capirci c'è una rappresentazione importantissima di questo concetto Ambrogio Lorenzetti, il pittore, viene chiamato dal governo della città i cosiddetti nove per affrescare stanze del Palazzo proprio per lanciare un importante messaggio al popolo di Siena vengono realizzati degli affreschi con dettagli meravigliosi completati nel 1939 che sono, tutto era visibile appunto al Palazzo Pubblico conviene andarli a vedere, anche qui ci mettiamo d'accordo e una bistecca di chianina e una rosticciata con le rive si prende sempre volentieri la sala dei nove appunto ha questi affreschi dove praticamente ci sono su due pareti differenti vengono raffigurate quello che accade nel caso in cui non ci sia il buon governo e dall'altra parte, vi metto ora l'immagine, qual è la situazione invece della situazione del buon governo appunto e al centro di questo c'è la virtù della temperanza che viene rappresentata con in mano, nella mano sinistra e osservo appunto con espressione preoccupata lo strumento appunto che è una clessidra perché la clessidra appunto dà la simbologia del tempo che deve essere bilanciato tra quelli che sono appunto quella che è la principale virtù per gestire il bene pubblico ovvero la temperanza, il saper in qualche modo moderare le proprie volontà personali, la ricerca del proprio piacere assoluto il tutto in un contesto di reciproco rispetto il bilanciamento tra il desiderio personale e il bene della comunità e appunto mentre da una parte ci sono queste scene drammatiche di cosa succede senza la temperanza che evidentemente significa senza il governo dei nove dall'altra parte c'è il cosiddetto affresco del buon governo in cui tutto funziona, in cui tutti sono contenti in cui tutti sono felici per cui una simbologia molto precisa rappresentata ancora da uno strumento per la misura del tempo ovvero la temperanza e il rispetto delle regole e la gestione del tempo è la prima di queste regole abbiamo già parlato nel video di qualche giorno fa su John Bennett di quale a un certo punto fu l'esigenza di uniformare i diversi tempi voi sapete che precedentemente anche con l'uso dei diversi orologi ogni città facendo riferimento e tarando per così dire gli orologi su quelli che erano i cicli solari ogni città anche all'interno della stessa nazione e a maggior ragione all'interno di un impero aveva un proprio tempo evidentemente si incominciò per l'appunto a definire dei discorsi in riferimento a quella che è la longitudine per cui alla definizione dei fuso rari ma anche nello stesso fuso rario potenzialmente città che si trovavano in punti diversi successivamente e sufficientemente lontane avevano degli orari diversi e di conseguenza il campanile della città 1 era significativamente anche di svariati minuti diversi dal campanile della città numero 2 grande problema questo abbiamo già visto sia per appunto la determinazione della longitudine di cui abbiamo parlato sia nel video di Bennett che nel video sulla breve storia della orologeria svizzera e in qualche modo anche nel recente video sugli orologiai inglesi nella fattispecie che risorse il problema con un cronometro particolarmente preciso fu appunto Harrison con il suo H1, H2, H3 eccetera ma stiamo ulteriormente divagando il problema si pose in maniera significativa lo diciamo nel video sugli orologi della ferrovia nel momento in cui bisognava coordinare la ferrovia non si poteva pensare che lo stesso orario ferroviario dovesse tener conto del fatto che a Londra c'era un orario a Leeds ce n'era un altro a Manchester un altro a Stockton un altro ancora appunto gli inglesi che realizzarono la prima ferrovia sulla linea Darlington-Stockton se non ricordo male avevano la necessità di uniformare questi tempi leggevo un esempio il tempo di Bristol che è a 177 km a ovest dell'osservatorio reale di Greenwich per cui l'ora di riferimento dell'Inghilterra era se non sbaglio 10 minuti indietro rispetto appunto a Greenwich appunto nel 1675 ogni città aveva la propria ora locale a questo punto però c'era una necessità di coordinarsi nel 1840 allora locale di ogni stazione lungo la rete ferroviaria dovete adeguarsi al tempo proprio della ferrovia per cui in qualche modo a quello che era il tempo riferito dell'osservatorio di Greenwich i tempi di riferimento erano importanti appunto per coordinare gli orologi della marina e lì si correva il rischio di fare dei naufragi se non si determinava bene la longitudine ma per certi versi ancora di più l'applicazione dell'ora elettrica a questo punto nel senso del segnale elettrico che veniva trasferito a partire dall'osservatorio di Greenwich ai alle diverse città per coordinare i propri orologi divenne interessante, divenne richiesto nel momento in cui si fecero delle leggi per definire gli orari di apertura degli esercizi pubblici per cui c'era in Inghilterra una società che si chiamava Standard Time Company che forniva questo servizio alle diverse società nel 1874 il Parlamento inglese stava dibattendo su come dovesse funzionare nella pratica il Licensing Act del 72 ovvero quello che era appunto la definizione degli orari di apertura delle attività pubbliche e di quelle che erano appunto le scuole, la polizia, le biblioteche le casse di risparmio, le banche eccetera e fu promulgato successivamente il cosiddetto Factory Earth che era stato approvato nel 1802 per proteggere i bambini che lavoravano nei cotonifici di Manchester perché qui c'è un'altra problematica di cui parliamo tra pochissimo di conseguenza più che, oltre che per la ferrovia fu, ci fu una necessità ad esempio, anche forse soltanto per chiamiamoli motivi morali quello di coordinare le diverse orari di apertura anche in ambiti magari così in prima battuta che possono non sembrare così importanti ad esempio erano iscritti al servizio di coordinamento chiamiamolo elettrico cioè appunto quello che dicevamo poco anzi diverse società che si occupavano fondamentalmente di, chiamavano, ristorazione o comunque di gestione di quelli che erano per così dire i pub per capirci perché ci si teneva in maniera particolare che anche questo discorso chiamiamolo di controllo e di temperanza se così lo vogliamo chiamare ci risiamo effettivamente era era oggetto di verifica e di qualche modo in posizione da parte di dell'ordine costituito il tempo standardizzato consente appunto di controllare il comportamento di chi si trova in quel fuso quando ci si alza quando si deve andare a dormire quando si può comprare appunto gli alcolici quando è consentito lavorare nelle fabbriche nei negozi quanta luce si prende in estate com'è facile o non è facile spostarsi all'interno del paese del fuso orario ci si serve a questo punto degli orologi elettrici in qualche modo per definire regole e anche comportamenti morali quando appunto uno prende un treno quando si ritrova nell'orario di punta per andare a lavoro sulla sua macchina in qualche modo si deve rendere conto che sta obbedendo a quelli che sono gli orologi elettrici adesso al tempo non più definito dagli orologi elettrici comunque al tempo definito convenzionalmente ci si è da che mondo è mondo da che sono stati inventati gli orologi per secoli serviti del tempo per tenere in riga le popolazioni o no cioè le popolazioni sono così contente di essere tenute in riga guardate quanto questo controllo assomiglia con le giustissime cause nessuno dice di no ma il controllo che è stato esercitato in qualche modo ce ne sarà stato motivo non voglio discutere durante il periodo del lockdown si può uscire non si può uscire entro le 10 bisogna stare a casa non si può andare fuori gli orari degli esercizi pubblici potere mamma mia i nostri amati orologi come strumento di coercizione e di controllo delle libertà personali abbiamo detto nei video che ho citato precedentemente che molti orologi con la rivoluzione industriale inglese furono presi proprio per la loro capacità perché l'orologeria era una una tecnologia all'avanguardia per la loro capacità di realizzare meccanismi appunto molto precisi e di conseguenza per realizzare quelle che era l'ottimizzazione e addirittura l'ingegnerizzazione di quelle che erano le macchine per la produzione industriale soprattutto voi sapete legata al mondo dell'industria tessile a questo punto gli orologi diventarono anche degli strumenti per il controllo della forza lavoro perché non si prendevano più gli operai in funzione della realizzazione di un lavoro è tipico dell'artigiano concettualmente all'idea della capacità di redditività ma il concetto per l'artigiano è per l'appunto quello di dire io ho un lavoro da fare lo realizzo nel tempo che mi ci vuole nel momento in cui sono all'interno di una macchina di produzione tutti devono arrivare a lavorare nello stesso momento smettere di lavorare nello stesso momento o quasi e sono vincolati vi ricordate il mitico tempi moderni di Charlie Chaplin sono vincolati a una specifica e precisa scansione del tempo gli stabilimenti industriali e le fabbriche inglesi avevano problema col tempo cioè gli orologi che facevano parte appunto della regolamentazione del lavoro degli operai spesso erano in qualche modo così utilizzati in maniera impropria da coloro i quali questo controllo lo dovevano esercitare ci sono delle dichiarazioni appunto da parte degli operai nelle fabbriche tessili in cui si diceva che gli orologi venivano messi avanti al mattino e dietro la sera e anziché servire folle c'erano gli orologiai per fare le macchine ma proprio qui i tempi diciamo non erano tanto giusti venivano usati per celare imbrogli e oppressione e non a caso questi signori che si intendevano troppo di orologeria venivano utilizzati e poi in qualche modo allontanati perché non era bello avere della gente che capisse troppo di regolazione e di gestione della orologeria è notevole il fatto che da questo punto di vista in qualche modo l'orologio personale per cui l'abbassamento dei costi degli orologi da tasca sapete che poi gli orologi da polso sono diventati importanti per gli uomini soprattutto con il discorso della prima gara mondiale comunque diventa molto importante e in qualche modo un obbligo in qualche modo un gesto rivoluzionario l'utilizzo dell'orologio da tasca a un prezzo più basso nelle tasche appunto dei lavoratori in tal senso sì l'orologio è diventato da una parte un simbolo di per certi versi rivoluzionari ma dall'altra parte anche l'affermazione di quello che è un discorso di libertà personale e di giustizia di equità quindi il vero senso e il vero simbolo di potere non è il nostro bello orologio più o meno coronato più o meno importante che portiamo al polso che dovrebbe definirci come persone importanti e persone di potere e dare così l'idea di quanto siamo appunto persone degne ha avuto e ha tuttora pensate a quanto siano importanti le transazioni per cui la gestione del tempo delle transazioni economiche a quanto siano importanti gli orologi che sono sui satelliti per la determinazione della posizione GPS c'è stato chi ha detto che il giorno in cui i GPS dovessero avere dei problemi a livello di GPS montati sui satelliti a seguito degli orologi montati sui satelliti avremmo una vera catastrofe probabilmente molto peggio della pandemia in cui ci troviamo per cui gli orologi sono importanti non tanto perché così possiamo andare in giro a dire avete visto quanto sono figo quanto ne so quante il mio orologio è bello e il tuo non è bello non conta quanto siamo fighi quanto abbiamo pagato quanto potremmo pagare o quanto crescerà l'orologio piuttosto di valore ma conta effettivamente quello che l'orologio significa è quello che è il nostro concetto di libertà e quanto siamo disposti a così vendere la nostra indipendenza la nostra capacità di pensare in maniera indipendente nei confronti di quelle che sono delle mode più o meno discutibili quindi gli orologi possono essere segno di potere possono essere segno di omologazione possono essere segno di imposizione il tempo e non solo lui è tiranno si dice oppure dall'altra parte possono essere segno di libertà possono essere segno di capacità di gestire il proprio tempo di originalità di sapersi discostare da quelli che sono i dettami comuni per cui il mio umile e assai poco significativo consiglio è quello di dire usate sempre la vostra testa non state a sentire quello che vi raccontano le case che vi vogliono avere con un certo tipo di orologio non state ad ascoltare quello che vi dicono influencer guru più o meno qualificati che vi dicono che nuance deve avere il quadrante del prossimo orologio e come questi diventeranno lo strumento che vi permetterà di affrancarvi dalla vostra condizione sociale e di diventare ricchi in tempi brevi come tutte le cose è giusto farle soprattutto come una cosa come questa che è un hobby è giusto farle per passione è anche giusto però secondo me tener conto di quello che è l'effettivo valore di che cosa gli orologi hanno rappresentato nella storia e di che cosa tuttora rappresentano perché il nostro mondo è completamente vincolato a quelli che sono le misure del tempo e di conseguenza gli strumenti che le misurano mi fermo finisco con questo pippone la predica per oggi ve l'ho fatta tenete botta siamo alla fine un saluto a tutti e un saluto a tutti Grazie a tutti.